Sono le indagini che noi vogliamo, indagini che si concludano, che vanno a termine in periodi di tempi ravvicinati in modo da poter infliggere in maniera serrata dei colpi che riescano a minare dalle fondamenta le organizzazioni mafiose. Se noi facciamo seguire tempi troppo lunghi tra una operazione e l'altra, rischiamo di consentire a queste organizzazioni di rafforzarsi e soprattutto di fare male sul territorio che già soffre per tanti aspetti crisi economiche e quant'altro. Nell'ambito dei due gruppi che tradizionalmente compongono l'ossatura dell'organizzazione abbiamo oltre al gruppo degli neri in questo caso colpito il gruppo del traforo e nell'aprile viene arrestato Nuccio Mazzei, nel maggio del 2015 vengono sequestrate delle armi dotate di un notevole potenzialito offensivo tra cui una pistola mitragliatrice, tutte le armi sono con matricola a brasa e poco dopo le indagini si concludono e si parta, si elabora una informativa di reato e poi la procura tempestivamente avanza la sua richiesta di misura cautelare. Dunque vengono scoperti nell'ambito di queste indagini anche due furti, due furti che sono commessi uno in Augusta e l'altro nel centro di Siracusa. Per questi fatti il giudice delle indagini preliminari dopo aver ravvisato le esigenze cautelari e quindi emesso il provvedimento cautelare si è dichiarato incompetente e trasmetteremo gli atti quindi alla procura di Siracusa perché procede.